Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus Io sono Ser e quella che faremo è probabilmente, sempre ammesso che funziona, una daily Perfetto, finché è il primo piano e quanto meno adesso sappiamo che cos'è Ok sappiamo dov'è il boss Qui occhio che c'è la bombetta Ok quindi non è da questa parte che bisogna andare E quindi qua su Ok non ci sono item room perfetto Giusto? Sì però ci sono in shop Ok questo è chiaro Ci darà little Steven? O saremo abbastanza fortunati da beccarci Steven? Chissà Steven non troppa quasi mai Ok Ok E infatti little Steven foo Almeno abbiamo qualcuno che spara insieme a noi Cuts of the blind Non sappiamo che cosa prendiamo quindi non prendiamo niente A meno che non troviamo qualcosa che ci permetta di vedere che cosa stiamo facendo Questo è tutto molto interessante Subito boss Dove bisogna arrivare? Da Isaac Ok Dai pinna Dai il meglio di te Speedball Ci proviamo Buono 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 Allora Facciamo così Perfetto Perzi proprio due cuori di quelli Vediamo se move the void serve a qualcosa Come al solito Ma ci aiuterà a fare in fretta le stanze Ok Qui quindi c'è la stanza segreta Qui ci sono altre 6 monetine che non sarebbe male prendere Il cuore nero che volevamo Vediamo se le cacche ci portano buono No Va bene si può scendere Oppure no Oppure no Oppure no Potremmo entrare in un shop Con la speranza che ci sia un cuore blu Oppure no 5 monete Ok Questo è quanto Per questo livello Dubito che possa essere qua Ma Tentare Esatto Infatti Non era lì Ci siamo assicurati i patti con il diavolo È già qualcosa Se riuscissimo anche a triggerare Ok Andiamo a triggerarlo sempre Assolutamente Sì Cosa ci dai? Una chiave Va benissimo Due monetine Lì potrebbe esserci la stanza super segreta in realtà Qui se dovessimo trovare il volo Sarebbe perfetto Ok Sempre per il volo Un po' un peccato Perdere quel cuore così Cosa facciamo? Oh ma Un cavolo di cuore no eh Esattamente ciò che speravo Callos sì Ok Ok Adesso poi quella Lo usiamo In quella stanzetta Allora Allora I soldi I soldi Qui adesso Avendo Callos Questi Li possiamo prendere E arriviamo a 15 Blankard Non la prenderò Ma mi tengo i soldi Un cuore blu Meet E si scende Allora Questo è interessante Questo è un sconto interessante Se riuscissi anche a prendere quelle monete Quelle abbastanza monete No Allora Qua Facciamolo Dobbiamo cercare di non abbattere Ok Dai Due monete Due monete Due monete Una monete Ci sta Adesso ci facciamo un attimo Il volo Il giro Di là Per Lo shop Almeno Magari Un drop interessante Possiamo trovarlo Ok Possiamo entrare Nella stanza maledetta Gratis Ed è già tanto Oh Via Bivi E qua Un sacco di cuori rossi Va bene Va bene Sì Avrei preferito Effettivamente Sono stato un po' stupido Boss Vediamo Vediamo Ok Meglio Avere Cuori In più Mandiamo Full vita Blu Wow Mi è venuta Come un'impressione Ditemi se sbaglio Non si è venuta anche a voi Quest'impressione L'impressione è che E che ci sarà una stanza Del sacrificio In questo piano Vista la mole Di HP Grazie a Che ha tirato fuori Che mi piacerebbe Anche morire Propp Isatto Allora Allora Danno in più non si rifiuta mai Ok allora Quello che dobbiamo fare adesso è intanto evitare tutte Strinchiate Di batterie Vedere se di qua I soft diamonds Il numero 4 non dovrebbe cambiare la run Qua non c'è niente Vedete qua non c'è niente Ho detto una cazzata Sembrava Dall'amore di batterie sembrava Devo dire la verità Cerchiamo di andare a fare la boss rush Quindi scendiamo abbastanza in fretta La boss rush dovrebbe essere abbastanza semplice Perché danno in più ce l'abbiamo No dole No dole Qua siamo stati Qua ci siamo stati Un è andato E due sono andati Dove è l'altro Ouch Perditei tempo più mille E basta Qua qui c'è Abbastanza del sacrificio Che mi converrebbe fare Soprattutto se riuscissi A trovare una carta Per uscire dalla boss rush Case of diamonds Non mi aiuta particolarmente No No Ultima chance Demon Perfetto 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 Buonissimo rinfretto Ok Adesso Adesso Entriamo qua Decidiamo che cosa prendere E credo proprio che prenderemo Halo Ah già che c'ho Callos E' la madonna Quanto lontano Quanto lontano Ok Queste dovrebbero segarsi Quasi tutti da soli Ok E' veloce di così Non lo trovo Ok E' veloce di così chi è? chi è che non sto vedendo? qui c'è? mi scacca chi è? 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 morte? no, guerra, dov'è? chi è? 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 io farei così va bene questo che era? is of diamond no, facciamo così e così poi facciamo così stopwatch quanto gli altri hp riesco a dire basta the rover è inutile is of diamond e basta ho cagato un altro po' di cuori una speranza che servono questa giustamente a joker usarla qua è inutile quindi ci conviene usarla esatto avere polaroid o meno ci interessa beh 2i posso dare no non gli potevo dare perfetto questa ma la riprendo grazie mille magari la uso pure un attimo risultato ci penso è uno solo siamo giocato almeno a questo punto non conviene usarla subito questo conviene prenderlo ci facciamo questa stanza a coppa torniamo a prendere tutte le batterie bene sei morto non è che facciamo così finiamo a fare la stanza doppia ah già giusto c'è anche va bene ho fatto un casino pensavo di prendere una caterva di danni ma qua c'è già il boss se uno volesse poco danno cioè pochi punti sempre meno buoni ok ok c'è un altro pezzo a questo punto lo facciamo due si siamo giocati dai ci manca uno ma dove cazzo non lo faccio subito e qua non c'è niente su qua un po' di roba qua c'è un cuoricino un cuoricino oh muori ok ma tanto questo lo vedo è la stanza segreta ok che è sempre meglio di niente quello lo usiamo dentro eh la data adesso è abbastanza inutile qua potrebbe esserci una super perfetto andiamo un po' di e via andare top 1000 perfettissimo ci sta ci sta avrei preso altri 2.000 punti di lanche guag bonus abbastanza basso exploration abbastanza basso è giusua per me va bene ragazzi questo è quanto spero che la run vi abbia soddisfatto un minimo come ha soddisfatto a me ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti